Un grande fiesalmonicista siciliano che risponde al nome di, del maestro Emanuele Polizzi, un applauso. Di dove sei? Io di Bolzano Sud sogno. Io sono di Enna, signori buonasera a tutti. Enna, Enna è bella, abbiamo il mare, abbiamo... E allora, quindi, il maestro Polizzi poi si eseguerà dopo e dirò qualche cosa su di lui. Mi serve ora come appoggio. Sentite quanto è dolce, quanto è bello e quanto è intonato perfettamente questo fischietto. E tra l'altro si costruisce lui, si fa lui il riscaletto. Quei che volano il riscaletto glielo può ordinare, senza problemi, e sarà pure intonato, senza mezzi termini. Un applauso. Cosa fa? No, 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 diciamo, che fa? Fa un malzer. Quindi ritorniamo al liscio, ma non con la fiesalmonica, con questo. Ok? Accompagnata anche con il ragazzo del gruppo di Abasoni. Un applauso. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.